Una profonda area depressionaria centrata al nord della Scozia tende a spostarsi rapidamente verso sud-est. Oggi lunedì, ampio sistema frontale in transito sulla Francia, con formazione di un minimo secondario sul Ligure. Domani martedì, ingresso della saccatura sull'Europa centrale associato ad un repentino calo della pressione sull'Italia settentrionale. In serata, transito del fronte freddo. In Toscana martedì 16 gennaio, cielo nuvoloso molto nuvoloso con piogge sparse sulle province centro-settentrionali, fenomeni scarsi o assenti sul resto della regione. Schiarite sulla costa nel corso del pomeriggio. Neve sull'Appennino oltre 1.200-1.300 metri in nottata. Quota neve e rapido rialzo nel corso della mattinata. Venti forti di libeccio sulla costa settentrionale, sui crinali e sui versanti adriatici dell'Appennino, moderate altrove. Mari da agitate a molto agitate a nord dell'Elba, con possibili mareggiate in serata lungo le coste esposte, molto mosse a sud. Temperature in aumento, in particolare nei valori minimi e in montagna. Cielo coperto e piogge sparse su tutto il territorio provinciale. A Lucca e nella Piana, temperature minima 7, massima 12 gradi. A Castelnove e zone montane minima 5, massima 12. A Viareggio e sul litorale, minima 10, massima 15 gradi.